Oggi ci troviamo nella città di Foggia per seguire una storica fiera, la fiera di Santa Caterina, che introduce di fatto il Natale. Tutti i foggiani la conoscono e tutti i foggiani aspettano periodicamente questo momento per acquistare qualcosa. E noi della tua tv siamo qui per curiosare e per andare a scoprire che cosa hanno comprato i foggiani. Quindi seguitemi! Che area si respira nella fiera di Santa Caterina? È un'area tipica di questo periodo perché appunto ci troviamo in prossimità del Natale, quindi molti di questi stand presenti all'interno della fiera rappresentano questo periodo dell'anno che è caro un po' a tutti quanti. L'area è quella di sempre, il via vai di gente che gira, guarda, compra, compra. Che cosa rappresenta la fiera di Santa Caterina per i foggiani? Beh sicuramente è un evento importante per la città, quindi è la prima volta che vengo qui. Ah è la prima volta? Quindi che impressione hai avuto? Ma io vengo soprattutto alla fiera per prendermi le caramelle gommose, però sicuramente è uno degli eventi tradizionali più importanti di Foggia. Cosa sta acquistando per questa fiera di Santa Caterina? Profumatori per ambienti? Scusate, è melograno. La signora dice melograno. Siamo adesso nel periodo giusto. Natalizio, giusto. Come si stanno comportando i foggiani in termini di acquisti? Quest'anno è bene, è bene, quest'anno è bene, non ci possiamo lamentare, dai. Che cosa abbiamo acquistato per la fiera di Santa Caterina? Piatti, contenitori per antipasti e poi come si chiama? L'estrattore. L'estrattore. Quindi ci prepariamo al Natale con la fiera? Più che altro l'ho fatto per il melograno. Melograno. Che fa bene alla salute. Di questo ne siamo certi, però non sappiamo se l'estrattore funziona. Quindi è il primo anno che viene, la prima volta, che impressione ha avuto? Beh, bei colori e una bella atmosfera. Tra l'altro me l'ha consigliato un autista di autobus, per cui è stata una piacevole novità. In effetti la fiera di Santa Caterina è una fiera storica, dal 1600, quindi... Quindi credo che sia molto sentita. Come sta rispondendo il foggiano negli acquisti? Sta rispondendo bene, quindi siamo, sono soddisfatta veramente di questa fiera, ma soprattutto del foggiano, devo dire la verità. Che poi arrivano anche dai paesi limitrofi. Sì, 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 sì. Addirittura, vabbè, ci sono anche, abbiamo avuto comunque dei siciliani, quindi tranquillamente, Campobasso, voglio dire, sì. Perché è una fiera comunque sentita, quella di Santa Caterina. È molto bella, devo dire la verità. Dalla fiera di Santa Caterina è tutto. Noi intanto abbiamo già sentito, ci siamo già preparati a quest'area natalizia. L'ha sentita anche voi? No? Non vi preoccupate, perché da qui a Natale le sorprese non mancheranno, anzi, però mi raccomando, seguiteci sempre sulla tua TV. Ciao!